12esima edizione della Pinocchio in bicicletta, siamo a Nardo di Pace con Mimmo Bulzumi dello Sporting Club Mileto che insieme all'associazione di Don Mimmo Di Carlo Maranatà ha organizzato questa bellissima manifestazione per i più piccoli. Era una promessa che avevo fatto a me stesso, ho cercato di mantenerla per portare il ciclismo nei luoghi più sperduti della Calabria, finalmente sono riuscito a portarla qua a Nardo di Pace perché meritava questo appuntamento. Sono presenti qua alla manifestazione Francesco Moserri, il vescovo, Gerardo Sacco, il vicepresidente nazionale del ciclismo per cui l'equipe è tutta completa. Ora ci auguriamo che nel futuro qualche altra persona si possa ricordare di questo paese, questo paesino che ha della gente meravigliosa, un sindaco giovane e il futuro sarà nelle mani di questi ragazzi nello sport e specialmente nel ciclismo. Prossimi appuntamenti qui in Calabria per il ciclismo? Io non ne conosco, io faccio quello che è possibile ormai data la mia giovanità, sono che ho una malattia brutta e mi auguro di poterle conteggiare, questa è una malattia del ciclismo brutta, mi auguro che tutti i ragazzi e tutte le persone si contagiano di questa malattia. Grazie. Grazie. Grazie.